Studio 7, in collaborazione con Sport e Piceno Game, presenta l'intervista di Pietro. Benvenuti alla nuova puntata. Abbiamo ospite Christoporetti, la prima domanda, a questo punto, se dovessi descrivere a chi ti ascolta, chi è Michele Christoporetti? Direi un canto autore che gira ormai da una decina d'anni sul panorama italiano. Abbiamo investito, parlo al plurale perché comunque il progetto parte da me, ma poi si allarga un po' i componenti della band che mi accompagna veramente da tanti anni. Quindi abbiamo sempre investito molto sulla dimensione live e quindi stiamo tentando, come ti dicevo prima nel Fuori Onda, di dare davvero tutto per riuscire a raggiungere quanta più gente possibile. Credo tanto nella musica dal vivo, credo che comunque gli occhi delle persone siano il pubblico che io preferisco e quello che ci fa capire anche meglio se la direzione è quella giusta o se siamo lontani, insomma, da quello che è un po' il linguaggio che si vuole in qualche modo intraprendere con il proprio pubblico. A questo punto, ho detto, parliamo dell'ultimo lavoro, l'ultimo singolo, ma è voluto proprio esagerare. Sai, dopo un po' di anni che la gente te lo dice, le soluzioni sono sempre due, secondo me. Quello di continuare a mentire o quello di, ad un certo punto, rendersi sinceri con gli altri e con se stessi. Quindi ho cominciato a dire invece che no ma, ho cominciato a dire sì e. Ok? Ho cambiato un po' di atteggiamento e con questa canzone penso di essermi tolto un po' di maschere, di essermi tolto un po' di dubbi, in primis con me stesso. Perché a volte io credo che il regalo più bello che possiamo fare in qualche modo noi stessi è quello di accettarci. Ok? Quello di accettarci un po' in tutte le sfaccettature, un po' con tutte le debolezze che abbiamo tutti quanti. Quindi fragilità, tristezze, punti deboli, insomma, eccetera. E quindi io in questo brano ho voluto metterceli un po' tutti questi. Tanto ho capito che nasconderli ha poco senso, capito? Perché poi sul palcoscenico comunque o con la gente che collabori quotidianamente o comunque con gli amici, la gente sa un po' tutto, capito? Anche se tu non vuoi ammettere certe cose. Quindi ho trovato anche una sorta di liberazione nel cantarla. L'ho cantata in anteprima sul palco di Vascorossi a Trento, in apertura. Ed è stato emozionante al punto da far fatica ad arrivare alla fine di questa canzone. Quindi gli voglio molto bene a sto pezzo e anche questa sera proverò a farla al meglio. Anche se sono un po' provato da tutte queste date live. Però è sempre una grande emozione farla, assolutamente. Come nascono le tue canzoni? Come si fa a creare una canzone? Nel caso tuo nasce prima musica per amore, le parole, oppure nascono insieme? Nel mio caso nascono, la stragrande maggioranza delle volte, da un frammento completo. Quindi un frammento che parte già con musica, parole, tutto insieme. E dopo da quel frammento lì, che magari può essere un pezzettino di strofa, un pezzettino di ritornello, un briso, una parte strumentale. Io, essendo un chitarrista, spesso parto proprio dalla base chitarristica. E poi da lì, dopo sviluppo un po' la canzone. Partono così normalmente. Poi non c'è una regola ben definita, perché capita che hai una frase in testa e assolutamente la vuoi mettere all'interno di un brano. E allora lì percorso un po' differente. Comunque, normalmente io parto dal frammento di canzone già completa, arrangiata, mixata e masterizzata nel mio cervello, chiaramente. Allora, citando come si fa, come si fa a salire sul palco di, prima di Vasco Rossi, qual è stata l'emozione quando ti si è aperta la quarta platea, che c'avevi così tante persone davanti, che prima inizialmente erano in dubbio, cioè titubanti, però quando hanno iniziato a sentirti suonare, si sono gasati, hanno trasmesso quell'energia a te. A quel punto tu che hai provato? Sì, è stato, sai, la riflessione che c'è nel pubblico è molto strana a volte. E su un pubblico di 120.000 persone è stranissima, perché non si è mai avuto l'occasione di provarla, capisci? Nel nostro caso è stato molto bello, perché c'è stato davvero un abbraccio grandissimo, appunto, 120.000 persone. Insomma, è stato qualcosa di estremamente emozionante. Io ho guardato di fare il bravo sul palco e di dominare un po' l'emozione, che è stata la parte più complessa, ti dirò, perché 120.000 persone o comunque tanta gente così, quando si mettono e quando ci stanno insieme a te, è davvero molto bello, ok? E appunto il limite è un po' quello di gestire la situazione, perché non si è potuto provarla prima, e quindi è stata questa la cosa particolare. Poi c'è stato il pubblico che c'è stato assolutamente con noi, con i battiti di mani, cantando insieme a noi la canzone Come stai, il brano che ho dedicato a Chico Forti, che a Trento è girato in radio un bel po'. E quindi, insomma, ci sono stati dei momenti davvero coinvolgenti per me e per il pubblico. Insomma, c'è stato un aggancio che me lo aspettavo, però non era così scontato. Ho visto di tutto negli anni in cui appunto ho seguito io da spettatore di concerti, ho visto delle band che sono state fischiate dal primo momento che hanno messo il piede sul palco. E quindi non mi sarei sorpreso di nulla da questo punto di vista. Invece è andata molto bene, è andata ancora meglio a Milano, all'ippodromo, forse anche perché io avevo rotto un po' il ghiaccio, avevo trovato una dimensione un pochino più, non dico normale, però un pochino già vissuta perlomeno una volta. E poi abbiamo finito lo stadio del Conaro, quindi abbiamo vissuto l'arena, abbiamo vissuto l'ippodromo, abbiamo vissuto lo stadio, abbiamo vissuto un po' tutte le varie concezioni del Vasco Rossi, che è un pubblico davvero molto affettuoso, estremamente empatico, estremamente di valore, secondo me, e carico. Quindi voglia di emozionarsi e voglia di divertirsi allo stesso momento. Quindi penso un'alchimia particolare che si trova in poche altre situazioni live. E con Vasco Rossi comunque ti vorrei far presente che in Ascoli è venuto anche con i quartieri latino e da lì sono partiti anche Paolo Martella. Quindi parliamo di musicisti che hanno fatto, poi hanno preso una carriera comunque a certo periodo importante. E a quel punto ho sceso dal palco quando ti sei trovato le persone davanti che ti hanno applaudito, ma ti hanno fatto delle domande oppure avevano anche paura di farti delle domande perché forse emozionati, forse troppo... Però tu l'hai visto in viso che gli hai dato una risposta, in realtà che quella risposta la resi comunque felici perché l'hai visto col sorriso e poi ti hanno chiesto pure l'autografo. Qual è stata la tua emozione e sensazioni che hai provato? È stato strano, sai, tutta questa gente che ti chiede di fare una fotografia, di fare una foto con loro, insomma è stato particolare, non mi capita molto spesso, insomma, passare davanti a loro e avere tutta questa acclamazione io penso che sia arrivata, sia arrivata a molta gente e questo ce l'ha fatto capire ai social network che appunto su Instagram e Facebook abbiamo ricevuto una miriade di messaggi, tanto che per sei giorni i social network, l'abbiamo appunto detto anche nei post dei giorni successivi, si sono bloccati completamente perché chiaramente non è abituato il nostro social ad avere un afflusso di gente così, capito? Però dopo, una volta sbloccato il tutto, è stato molto bello avere tutti questi messaggi da leggere e da rispondere perché ho capito che siamo arrivati ad un pubblico che potrebbe interessarsi un po' al mio mondo musicale e questo mi ha fatto tanto piacere perché comunque entrare sul palco di giganti della musica come Vasco Rossi non si sa mai realmente che reazione si possa avere dal suo pubblico perché comunque si va in casa sua si va tra il pubblico che lui conosce da tanti anni quindi è una dinamica, secondo me, non così scontata nel nostro caso è andata estremamente bene e stiamo tuttora vivendo un po' di quello slancio che c'ha dato Vasco facendo cinque serate live a settimana e spero di arrivare a fine agosto vivo questo è un po' quello che mi aspetto e che spero E invece, come è cambiato il tuo mondo musicale? Perché tu hai fatto diversi album da quando hai iniziato ad oggi? Che cosa ti sei reso conto? Che cosa è cambiato? Che ti ha fatto anche nel tempo crescere soprattutto artisticamente? È cambiato forse un po' quel discorso che ti dicevo prima riguardo ad esagerato è cambiata la mia sincerità nei miei confronti e la mia sincerità anche nella musica quindi quello che vuoi esprimere nelle tue canzoni non è sempre detto che sia la realtà nel senso dipende tu cosa vuoi esprimere nelle tue canzoni puoi esprimere un concetto puoi esprimere un parere riguardo a qualche tematica che sia sociale, che sia riguardo ad un episodio oppure si può parlare un po' più mettendoci di più del proprio quindi mettendoci più le palle se vogliamo dirla proprio chiara chiara e io penso di aver fatto un po' uno step da questo punto di vista cioè ho voluto dire di più la mia senza grossa paura come avevo magari nel primo album dove toccavo sempre degli argomenti magari anche un po' delicate in certi casi però li toccavo sempre un pochino più da distaccato invece adesso ho un po' più il pozo per riuscire a dire la mia nel massimo rispetto ovviamente di tutti però dirla fino in fondo che penso sia una cosa abbastanza importante prima di salire sul parco ci sono riti che ripeti oppure indifferentemente sali sul parco a qualche tuo collega mi ha detto prima di salire sul parco ho la sensazione di dire ma chi me lo fa fare? poi facendo quelle scalette e quando si apre la platea capisco perché sono lì anche tu hai questa sensazione oppure per te è indifferente? assolutamente sì è normale io credo c'è questa situazione qua questa situazione qua appena si mette il piede sul palco io faccio sempre un forte abbraccio prima ai ragazzi della band perché comunque sono loro i guerrieri che sono con te in quel tempo che tu resti sul palco e quindi sei esposto totalmente quindi io faccio questo abbraccio salgo sul palco appena sento l'aggancio minimo io tento sempre di parlare molto col pubblico perché voglio instaurare subito voglio capire loro e voglio che loro capiscano un po' un minimo del mio mondo a quel punto lì posso procedere con la musica perché non è facile soprattutto davanti a un pubblico che non ti conosce riuscire ad agganciarlo che secondo me è la cosa basilare altrimenti è difficile anche fare della musica dopo insomma quindi credo molto nell'instaurare un minimo rapporto col pubblico che sia però vero e che sia autentico che credo sia la base per partire a cantare e a suonare insieme a loro ma veramente non si abbiamo l'abitudine di settizzare un genere chi fa rock chi fa classica chi fa il tuo genere è un pochettino vario e nel tuo genere comunque vada attenti a espandere e far crescere anche il tuo stile di musica sì direi vario sì io sono partito dai grandi cantautori italiani per poi andare un po' più sul Brit sul Brit Pop Brit Rock insomma sono stato un po' rapito dal rock inglese quindi sono ancora rapito da loro da tutti quelli che ne fanno parte però tengo sempre ben i piedi solidi sulle mie basi appunto di cantautore e niente Cucini Dalla De Gregori De Andrè insomma Bertoli penso che siano questi nomi un po' che hanno creato la mia la mia prima passione la mia prima spinta per provare a scrivere qualcosa di mio è quello che tuttora mi danno delle basi insomma anche a livello tecnico per comporre sicuramente sono dei riferimenti molto importanti per me sicuro a livello musicale ai ragazzi gli si dice bisogna fare gavetta ma la gavetta non è la strada ma salire su un palco perché attirare l'attenzione di pochi passanti ma non sento cioè non si fermano ad ascoltare in realtà ciò che è il tuo messaggio ma in realtà è il palco parcoscenico dove devi attirare la tua loro attenzione e far capire qual è il tuo messaggio che gli vuoi mandare giusto? sì ma se io credo non ci sia un pubblico specifico è chiaro che se vado io mi credo che sofferti con The Rock davanti al pubblico che va all'opera c'è un po' di distacco però comunque un pubblico dedicato penso che non esista io credo a un pubblico misto cioè credo che la gente sia passione a te ad ascoltarti e ascoltandoti magari può capire che magari gli risuona qualche tuo concetto che metti all'interno dei testi o gli risuona qualche nota di qualche musicista io credo molto a questo quindi la gavetta è un po' quella di trovare di instaurare un qualcosa con il pubblico di capire anche le proprie potenzialità di capire un po' i propri punti forti insomma non è sicuramente facile io ho fatto tanti anni di gavetta e tuttora sto andando avanti su parchi grandi e piccoli cioè è difficile che rifiuti una data insomma quindi sono molto contento di questo finché riuscirò con le mie forze insomma andrò avanti su questo tema qua quindi ieri sera ad esempio eravamo su un palco piuttosto prestigioso che era quello in apertura ai nomadi una sera dopo siamo ad una situazione più piccola all'interno di un club cioè non c'è una situazione per forza che merita e una no tutte sono importanti basta appunto che lo si voglia trasmettere in questo modo qua certo prendiamo un messaggio a me allora in questo punto il quali stai proseguendo la tournée di conseguenza ci sono tante date in sequenza bisogna comunque fare attenzione a riposare anche la voce ogni tanto perché poi arrivare a fine concerto parliamo di veramente di fatiche d'Ercol in questo caso assolutamente sì riservare la voce anche durante lo stesso concerto capita a volte che sono un po' preso male perché magari come questa sera dovremmo suonare per la quinta serata consecutiva io ho la voce un po' stanca quindi dovrò tentare di riservarmela il più possibile di ragionare sul palco non andare completamente di pancia come quando c'è la voce riposata che si può andare completamente con tutta la propria energia insomma bisogna andare un po' in riserva di energia ma ci sta poi ho una stagione abbastanza buona io tocco delle notti abbastanza impegnative con la voce perché mi piace questa dinamica abbastanza ampia e spero di riuscire a resistere ho una buona stagione comunque sono abbastanza contento perché comunque la mia voce quest'anno sta tenendo bene ho avuto delle stagioni peggiori quest'anno sono piuttosto contento ho trovato anche delle impostazioni vocali un po' differenti e che però mi hanno aiutato quindi sono contento credo sempre insomma che bisogna tentare di fare uno stile di vita anche abbastanza sano abbastanza equilibrato almeno nella stagione nel periodo della tournée perché sennò diventa davvero insopportabile e interminabile insomma quindi bisogna fare i bravi ecco per capirci c'è qualche canzone che ti rimane nel cuore comunque e che ti porti dietro e la senti tutte le canzoni sono tue e sono belle però qual è quella canzone che ti porti un po' più dietro perché forse ti ha dato quando l'hai scritta ti ha dato un'emozione diversa guarda io sono molto legato alle mie canzoni dell'ultimo album ma anche del primo non saprei dirti qualcosa che ci tengo di più sicuramente ancora qui in mania come stai il brano che ho scritto per Chico Forti Rave Party penso insomma esagerato l'ultimo appunto che ho pubblicato tutti i brani al quale voglio molto bene perché fanno parte un po' del mio contemporaneo fanno parte un po' della vita che sto vivendo in questi ultimi anni quindi ci sono più legato il primo album lo guardo con un po' di nostalgia perché sono cambiato io perché sono cambiate le mie parole sono cambiati i miei concetti sono cambiate la mia vita insomma e quindi nulla in questo periodo voglio bene più ai miei ultimi brani perché li sento più sinceri e più vicini a quello che sono ora sicuramente ti è capirato di notare che quando in cui stai sul palco suoni il brano ma in realtà poi ci sono delle piccole variazioni che nascono anche dalla presenza del pubblico davanti che c'è davanti che cambiano leggermente il brano quello però ci sono delle piccole variazioni che ti accorgi alla fine alla fine del brano dice guarda ho fatto questa cosa ma mi piace e non me ne ero accorto sì assolutamente queste sono le bellezze della musica dal vivo e ci sono queste fluttuazioni che a volte succedono per me e anche per i musicisti è la magia della musica dal vivo come per un pilota tirare le traiettorie ottimizzate per quel circuito là per noi musicisti e cantanti esistono delle delle dinamiche vocali o delle dinamiche comunque musicali che nascono soltanto davanti a un pubblico e anche sotto un po' di pressione insomma penso sia la magia questa della musica questa è la vera magia della musica c'è qualche artista in cui tu mi hai detto che ci sono diversi artisti che ti hanno fatto crescere artisticamente c'è quello in particolare che ti ha fatto fare il salto di qualità secondo te artisticamente? beh direi di no è stata una sinergia di influenza appunto sono molto influenzato dal rock dalla musica elettronica dalla musica elettronica cantatore francesi cantatore italiani brit pop brit rock art rock americano insomma ho davvero tantissime influenze quindi quello che scrivo quello che produco alla fine è un po' veramente la risonanza di tutte queste voci messe in qualche modo in sinergia tra di loro i talent i social network Spotify YouTube X Factor sono un modo per far crescere i giovani oppure sono un po' un limite per i giovani musicalmente no no credo in tutto credo che non ci sia una verità credo che ci sia tante forme per poter espandere la propria musica penso che i social network siano molto importanti assolutamente sono il linguaggio che possono avere adesso gli artisti insomma una volta c'era solo la radio i giornali adesso i social fanno un gran lavoro e quindi io onestamente li uso tutti ovviamente bisogna gestirli nel modo secondo me più personale possibile devono rispecchiare se stessi sia nell'immagine che nei concetti e ricredo sia molto importante questo è molto importante usarli in modo personale un po' come la musica come l'arte in generale devono parlare di te ecco più che essere belli e gessati ok e nella creazione di un testo questa è l'ultima domanda nella creazione di un testo è più facile introdurre tante parole o sintetizzarle e renderle molto più sintetiche più chiaribili e rendere un po' più simpatico anche ciò che si vuole descrivere guarda una canzone io penso come uno spettacolo teatrale deve essere un po' riassunto della nostra vita o del nostro episodio che vogliamo raccontare e quindi i tempi morti li togliamo quando andiamo in bagno quando ci cambiamo le scarpe quando ci sistemiamo i capelli e si tiene solo la parte concept la parte che resta la parte che insegna o che comunque lascia un'impronta e la canzone penso sia questo sia un riassunto proprio di quello che si vuole esprimere che tante volte nella scrittura si è più estese dopo si va a riassumere per appunto raccogliere tutto all'interno di una strofa o di un ritornello che sia visto che sei salito su tanti palchi c'è qualche palco che ti piacerebbe di nuovo di salire di nuovo oppure di salire per la prima volta che ancora puoi salire o comunque anche nello spazio nel tempo scegliere un palco che ti piacerebbe salire? quello di Vasco Rossi mi ha lasciato davvero un sapore incredibile in bocca soprattutto quello di Trento perché è casa mia perché è un palco incredibile perché c'era una scenografia dettata dalle montagne che ci circondavano e da tutta questa gente che resterà stampata nella mia mente per tanto quindi risalire sul Trentino Music Arena sicuramente sarà un'emozione se capiterà in futuro sarà un'emozione ritornarci molto molto forte e che me l'aspetto di cuore com'è stato incontrato Vasco? è stato bello ci sono state poche parole c'è stata tanta riconoscenza da parte sua che non mi aspettavo insomma perché io gli ho detto un grazie con tutta la mia anima e lui mi ha detto grazie a Cristo quindi mi ha messo quasi in imbarazzo insomma un ringraziamento da parte sua quindi io credo una persona dal grande cuore dalla grande anima che mi è rimasta molto anche proprio a livello umano un personaggio che credo che sia arrivato da qualche parte è arrivato proprio per la sua umanità oltre che per il suo genio e per la sua musica assolutamente è una persona che penso merita meriti essere seguita oltre che nella musica anche nella vita di tutti i giorni perché ha un concetto e una sua filosofia che secondo me funziona molto perfetto noi ti ringraziamo ti auguriamo merda 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 stasera che pochi pochi ascoltatori sanno il significato però penso artisticamente lo conosci questo significato e allora lasciamo il dubbio a chi ci ascolta di andare a cercare il significato di questo saluto artistico io vi saluto magari col mio ultimo singolo intitolato esagerato e un abbraccio a tutti da Michele Cristoforetti ci vediamo in tournée spero nella vostra città ciao a tutti a presto studio 7 in collaborazione con sport e piceno game presenta l'intervista di Pietro